Nuovo colpo di scena per la chiesetta locale della Movida Piacentina di via Emilia Parmense. Gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura hanno notificato ai gestori un provvedimento di chiusura sempre per i fatti contestati a gennaio scorso. Il Tar di Parma, che prima aveva sospeso il provvedimento di chiusura di 30 giorni, ora ha disposto nei confronti del locale uno stop dell'attività per 15 giorni, scorporando però il periodo di chiusura già osservato dal pub. Ma facciamo un passo indietro. A fine gennaio la polizia compie un blitz all'interno del locale nell'ambito dei controlli disposti dal questore Pietro Stuni, che hanno interessato negli ultimi mesi almeno un'ottantina di locali in città. Dalle verifiche emergono alcune violazioni, che spazzano dalla mancanza della licenza per i pubblici spettacoli con più di 100 persone a risse e altre violazioni amministrative. Viene notificata la chiusura di 30 giorni, ma i gestori, tramite l'avvocato Andrea Cremona, presentano un ricorso al Tar, che sospende il provvedimento e rimanda la sentenza al 10 aprile prossimo. Ieri però lo stesso tribunale ha stabilito che la questura, in base alle violazioni riscontrate, aveva diritto a richiederne la chiusura per due settimane. È stato così notificato un secondo provvedimento e il locale dovrà interrompere l'attività per cinque giorni, ossia l'equivalente del periodo che resta da scontare.